una scena nella macchia la pietà di un medico la ferrovia corre anch'essa sul piano ad un passaggio a livello una carrozzella è ferma e un tipo di buon amicone che è dentro grosso rubicondo mi interpella porgendomi un bicchiere di vino alla vostra salute è il medico della ferrovia che attende un malato ora non vi sono febbri qui mi dice vengono solo dopo luglio e allora sono terribili ma intanto dalla macchia ecco sbucare un triste corteo sono quattro uomini che portano una barella su questa dello strame sullo strame un'ombra d'uomo che batte i denti e trema tutto come paralitico avrà 40 anni la barba e i capelli incolti l'aspetto feroce miserando l'abito lercio forse da mesi non mutato terribile nel ritmo duro e rapido dei suoi sbattimenti che nulla hanno di cosciente e pertanto vanno più paura solo gli occhi ardono sotto le grigie folte sopracciglia magro come uno scheletro le ossa si disegnano pungendo la pelle arsa e gialla e ancora come l'altra volta dice il medico dopo un momento senza scendere di carrozza e col bicchiere in mano dorme gnor no mangia e che può mangiare non c'è che continuare conclude il dottore porgendo un pacchettino di chinino forse se la caverà la scena brutale e raccapricciante termina così il medico si dispone ad andarsene la barella a essere portata donde viene con la sua vittima null'altro non un atto o una parola di più io tremo di sudore e ghiaccio la suprema indifferenza di tutti per un morente in una cornice così simile a un cimitero mi rivolte il mio prime quanta miseria morale o forse quanta provvidenza in quel filosofico incosciente disprezzo della vita non 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 non